Arlecchino Arlecchino oggi è vivo, non è mica lui cattivo, è soltanto un po' sciocchino e birichino Guarda nuvole, racconta tante favole, è distratto e anche matto, ma mantiene sempre il patto Non dimentica gli amici che tagliarono felici pezzi ammazzi dei vestiti Benvenuti alla nostra nuova puntata Oggi impareremo ad usare, fare borsette, capelli come quello che sto usando io ma che ha fatto mia zia Oggi impareremo a fare... Ciao Simona Ecco qua, buongiorno, benvenuti nel mondo del tutorial Ora vi spieghiamo una tecnica facilissima che si usa utilizzando la plastica L'unica cosa è che dovete trovare la plastica, proprio la plasticaccia, non la plastica quella ecologica diciamo Quella fatta con il mais, ma proprio quella che viene dal petrolio, quella che ormai è illegale Però c'è dappertutto, soprattutto non ce ne abbiamo tantissimo nell'Adriatico Abbiamo una bella isola di plastica, dimmi Spiega tutte le cose Si, spiego tutte le cose Questo Mi hanno cambiato, Ninni Ninni, che color è? Seppia L'altra Cosa L'altra 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 Un'altra L'altra Cosa L'altra Grazie a tutti. 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 Grazie a tutti.